Il Parma sia compatto, subisca di meno in difesa, secondo te quanto incide il cambiamento del modulo e il passaggio alla difesa a tre? Ma sì, potrebbe aver inciso, questo è sicuramente ci ha dato una mano, siamo tutti a essere a tre, ma nel momento di difficoltà ci abbassiamo e diventiamo a cinque, per cui sicuramente la fase difensiva riusciamo a farla meglio. Questo ci ha permesso di subire molto meno e di avere la possibilità di incassare anche qualche ruolo di meno. Questa è il Parato di Amaure, no? Però la Fiorentina è pericolosa anche sotto altri punti di vista. Quali possono essere le difficoltà della partita di domenica? Le difficoltà della partita di domenica, come dicevo prima, sono quelle che è una squadra che si è rinforzata al mercato di gennaio, è una squadra che sta tornando a essere in salute, è una squadra di qualità, cioè giocatori, come dicevo prima, giocatori imprevedibili, giocatori di qualità, soprattutto nel reparto avanzato, dove secondo me ha veramente dei talenti molto giovani davanti. Ama o di tutto non lo conosceranno, per cui sarà una partita non facile, ci sarà da, come si dice, da battagliare, però insomma ci faremo molto grande. Grazie.